Buonasera e ben ritrovati ai telespettatori dei fatti e delle opinioni, questa sera accendiamo i riflettori e le nostre telecamere, apriamo i nostri microfoni su un tema che è destinato a fare la storia di questa regione, di questo territorio nel corso dei prossimi anni, già lo sta facendo perché è un percorso inesorabilmente iniziato e che arriverà ad un approdo nel 2027. Parliamo della nuova Pescara che sta nascendo, come vedete nel titolo della nostra trasmissione e noi abbiamo il piacere e l'onore che abbiano raccolto il mio invito a essere presenti contemporaneamente negli studi di Rete 8, i tre sindaci costituenti. Li saluto e li ringrazio, Carlo Masci, sindaco di Pescara, buonasera. Buonasera direttore, un caro saluto ai miei colleghi e ai telespettatori. Ottavio De Martinis, presidente della provincia di Pescara, ma soprattutto qui nella veste di sindaco di Montesilvano, buonasera. Buonasera. E Chiara Trulli, sindaca di Spoltore, buonasera anche a lei. Buonasera direttore, buonasera a tutti, a coloro che ci guardano da casa e anche ai colleghi. Allora, noi, eccola, questa è l'immagine plastica della nuova Pescara, dei tre sindaci costituenti, sarete voi a consegnare in questi mesi, in questi anni questa nuova città al suo destino e lo state facendo al di là di tante polemiche, al di là di tanti interrogativi che hanno riguardato prima il se e adesso il come, attraverso una serie di atti amministrativi, attraverso una serie di impegni che sono stati presi dai consigli comunali, ma anche dalle attuali giunte circa questo percorso. Allora, stasera facciamo il punto della situazione, spieghiamo soprattutto ai cittadini della nuova Pescara, ma anche a tutti gli abruzzesi dove arriveremo nel 2027. Come ci arriveremo? Iniziamo con Carlo Masci. Allora, il percorso è tracciato, dicevo, i consigli comunali hanno deliberato una bozza di statuto, che non è lo statuto ancora definitivo, però ci sono state anche delle riunioni operative che le varie articolazioni amministrative delle vostre giunte hanno tenuto congiuntamente per unificare una serie di servizi. Era quanto la regione, vi chiedete, ed è quanto voi avete già fatto? Sì, noi stiamo facendo i compiti a casa, cioè quello che serve per arrivare alla fusione nel 2027. Diciamo con chiarezza che noi stiamo portando avanti la più grande fusione mai fatta in Europa, quindi è un'operazione di una rilevanza incredibile, anche molto complessa, perché mettere insieme tre comuni della rilevanza di Pescara, Spoltore e Montesilvano non è un compito facile. Quindi chi pensava di poter affrontare le cose in maniera più tranquilla, meno problematica, evidentemente pensava che stessimo facendo operazioni di poco impatto. Invece questa è una grandissima operazione, dobbiamo sempre ricordarlo. Il lavoro che facciamo è un lavoro che comporta un impegno di tante persone che oggi sono tutte quante proiettate verso questo grande obiettivo, dare a questo territorio un'unica grande città che si misurerà con le altre città dell'Adriatico diventando la seconda città dell'Adriatico, la diciannovesima città d'Italia, una città che veramente potrà ambire a raggiungere traguardi che erano impensabili fino a qualche anno fa. Di questo ringrazio anche i miei colleghi perché c'è un impegno costante, fattivo. Noi stiamo cercando sempre e costantemente le cose che ci uniscono rispetto alle cose ovviamente che sono più problematiche perché mettere insieme i tre comuni non è assolutamente semplice. Sindaco, ancora Sindaco di Pescara, nella operatività di queste procedure le chiedevo a che punto siete, nel senso avete fatto anche delle riunioni, sono stati fatti dialogare ad esempio i sistemi informatici delle amministrazioni, si è cercato anche di unificare le procedure di protezione civile, insomma ci sono dei temi specifici su cui c'è tutta una squadra di dirigenti e di dipendenti dei tre comuni che lavora in sinergia già da ora. Noi abbiamo creato un ufficio di fusione composto da tre sindaci, dai tre Presidenti del Consiglio Comunale, dai dirigenti apicali dei vari comuni per fare in modo che ci sia un'operazione gestita unitariamente e oggi abbiamo raggiunto già i primi obiettivi perché noi avevamo degli obiettivi da raggiungere entro il 30 settembre e abbiamo approvato lo statuto che oggi c'è e abbiamo firmato le convenzioni che riguardano i cinque servizi che uniremo in questi mesi perché già stiamo operando in tal senso. La Regione ha confermato che tutto quello che dovevamo fare è stato fatto e quindi possiamo proseguire nel percorso che ci porterà al 2027 con il risultato definitivo. Per adesso i cinque servizi che stiamo accorpando sono la CUC, cioè la Centrale Unica di Committenza, il SUAP, la Protezione Civile, la Statistica e l'Unione Europea perché già abbiamo lavorato, perché già i comuni lavoravano in questo senso e quindi abbiamo trovato delle facilitazioni per raggiungere questi obiettivi. Sindaco De Martinis, lei da Presidente della provincia è già abituato a ragionare in termini di area complessa, insomma di sinergie tra amministrazioni. In questa prima fase qual è stata la principale virtuosità di questa sinergia che si è innescata? Siete riusciti a dialogare come avviene, ad esempio, quando si parla di un'amministrazione su un territorio complesso con la provincia, anche sui tre comuni? Sì, direttore, assolutamente sì. Io da sempre ho sostenuto quanto la sinergia territoriale fosse un elemento importante per la vita del territorio, per la vita dei cittadini e quanto possa portare in termini benefici per gli stessi. Noi, forzatamente, a seguito di una legge approvata, ma anche coscienziosamente e anche con uno sbaldo rivorto al futuro, ci siamo seduti attorno a un tavolo e abbiamo, come diceva il Sindaco Carlo Masci, portato avanti una serie di azioni volte appunto a unificare alcuni servizi. Servizi che risulteranno sicuramente meglio armonizzati e soprattutto che potranno avere dei vantaggi appunto per il territorio stesso, la luce del fatto che lavorare insieme e avere uno sguardo sul territorio largo per alcuni temi è sicuramente meglio che guardarli e portarli avanti sicuramente. E quello che diceva Carlo Masci in merito alla difficoltà è assolutamente vero. Io per primo sono stato anche denigrato e questo mi dispiace quando all'inizio ho detto non è un processo semplice e scordatevi che si possa portare avanti un processo del genere in un anno peraltro dopo essere usciti dal periodo del Covid che ci aveva letteralmente messo in ginocchio. E quello che ho detto si è rivelato essere quello che poi è successo, perché poi quando ci siamo seduti attorno a un tavolo al di là dei benefici e di quello che ho detto ci siamo resi conto di quanto comunque fosse difficile portare avanti questo percorso, soprattutto perché al di là del fatto che non abbiamo mai avuto dei fondi perché si fa un gran parlare di fondi ma nessuno ci ha dato fondi aggiuntivi con i quali portare avanti certe incompense e tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto con il personale dei tre comuni che ringrazio infinitamente perché oltre a portare avanti tutte le incompense quotidiane loro hanno dovuto lavorare per arrivare agli obiettivi prefissati e questo secondo me è un motivo di orgoglio doppio e soprattutto per il quale va rivolto un serio ringraziamento ai dirigenti, ai segretari, a tutti coloro che insieme hanno lavorato per arrivare agli obiettivi. Ecco, Montesilvano è ormai come popolazione la terza, la quarta città d'Abruzzo. Pescara è la prima, Spoltore, Sindaco Trulli, insomma deve fare le stesse cose di questi primo e terzo comune con penso risorse personali non proporzionate a questa dimensione. Ecco, per voi suppongo che sia stato un po' più complicato anche questa prima fase o no? Dunque, il processo di fusione ci coinvolge sugli stessi tavoli e con i medesimi impegni a prescindere dalla entità dimensionale, ma con senso di responsabilità, come dicevamo anche con i colleghi stiamo affrontando questa fusione per fare in modo che si possa agevolare un esercizio associato di due funzioni fondamentali e tre secondarie entro il 2024 perché le cinque funzioni saranno associate a far data dal primo gennaio 2024 e con chiaramente le difficoltà che sappiamo che sono di ordine procedurale, che sono legate alla gestione del personale, che sono legate anche per esempio alla contrattualistica attualmente in essere, i sistemi informativi, le procedure che chiaramente li rendono diversi da comune a comune e che stiamo ragionando per integrare senza che ci siano problemi appunto in termini di efficacia ed efficienza nell'erogazione dei servizi. Ecco, questo ripeto anche con personale che non è proporzionale rispetto a quello degli altri comuni per voi. Io penso che il problema principale non sia tanto il numero dei dipendenti dei comuni che chiaramente è differente, ma questo dipende dagli assetti organizzativi parametrati alla classe dimensionale del comune. La differenza attualmente la registriamo proprio perché il comune di Spoltura ad esempio non ha la dirigenza, non c'è istituita la dirigenza e la posizione apicale del comune è il segretario generale, poi noi abbiamo chiaramente una struttura con posizioni organizzative, quindi è diversa rispetto a quella di Pescara e anche a quella di Montesilvano, ma cercheremo comunque di fare la nostra parte con le risorse che sono appunto in pancia e senza problemi perché il problema principale è secondo me stare ai tavoli e starci con la dovuta preparazione e competenza e la nostra squadra amministrativa è comunque una squadra amministrativa di livello. Poi c'è un secondo tema, adesso ne parliamo subito perché non dobbiamo nascondere quando ci sono anche i problemi che mi ha un po' diviso in queste settimane e a chi ha diviso i consigli comunali nella loro diversità di vedute per l'approvazione di questo statuto provvisorio che poi è passato a maggioranza con una maggioranza spoltore Montesilvano, se vogliamo prenderla banalmente sui numeri, su due temi particolari, il nome Nuova Pescara e questo nello statuto provvisorio e la composizione degli organismi rappresentativi che è quella un po' più allargata rispetto alla proposta di Pescara che era un po' più accorpativa. Sindaco Masci, ne arriva a dire che comunque è uno statuto provvisorio, poi ci saranno anche altre fasi, questa situazione pesa un po' sulla città di Pescara, questa sconfitta ai numeri che comunque numeri alla mano mi pare inevitabile da questo punto di vista. Sì, era inevitabile perché la legge regionale non ha previsto la ponderazione basata sugli abitanti delle realtà che si stanno fondendo e quindi nel momento in cui siamo andati in consiglio comunale i comuni di Montesilvano e Sportore avevano in assemblea più consiglieri comunali di quelli di Pescara, quindi questa situazione ha creato qualche problema legato a due vicende in particolare, quella del nome della città, noi pensiamo che il nome di Pescara debba comunque rimanere perché esiste la provincia di Pescara, perché comunque Pescara è il riferimento generale di tutta un'area e perché comunque Sportore e Montesilvano non avrebbero particolari vantaggi nel nome di nuova Pescara perché alla fine tutti quanti continuerebbero a identificare anche la nuova città come Pescara, questa è una mia opinione ma è l'opinione di tutti i consiglieri comunali di Pescara che hanno votato in assemblea. Poi c'è il tema del numero dei consiglieri dei municipi e degli assessori perché noi abbiamo sempre detto che il ragionamento deve essere l'identità delle tre realtà deve rimanere perché è importante che la nuova città nasca su basi ben saldate a terra, quindi sulla tradizione, sulla storia, sulla cultura di ogni singola realtà e questo interessa a tutti e tutti quanti vogliono raggiungere lo stesso obiettivo. Come si raggiunge questo obiettivo? Con i municipi, tant'è che la legge nazionale e quella regionale prevedono la possibilità in caso di fusioni di inserire i municipi che altrimenti non ci sarebbero per le dimensioni della nuova città e quindi noi siamo ben d'accordo ad avere i municipi, abbiamo anche stabilito che Pescara ne dovesse avere due, Montesilvano uno e Sportore un altro municipio, anche se con differenze di popolazioni. Il tema è legato al numero dei consiglieri e al numero degli assessori, noi pensiamo che gli assessori non siano necessari nei municipi ma che siano sufficienti i consiglieri delegati per poter svolgere quelle attività che si svolgono direttamente sul territorio attraverso il Presidente del municipio eletto dai cittadini, così come il numero dei consiglieri noi pensiamo che non debba essere un numero elevato o comunque lo stesso numero indicato nello statuto dalla maggioranza dell'Assemblea che poi è quella che ha votato. Su questo ci troviamo in posizioni differenti, però io dico che sono certo che in questo tempo che ci separa dalla nuova città troveremo il modo di raggiungere posizioni unitarie che siano sintesi di tutti i discorsi e di tutte le necessità, fermo restando che nel 2027 il nuovo Consiglio Comunale potrà stabilire quello che è giusto sapendo che già c'è un'altra città e che ovviamente tutto quello che diciamo oggi sarà rivisto da chi arriverà nel 2027 e che porterà avanti il nuovo percorso di una città che si misurerà con altri pesi e altri argomenti rispetto ad oggi. De Martinis, le argomentazioni di Montesilvano e di Spoltore sono state lette un po' genericamente come dall'opinione pubblica, da una parte dell'opinione pubblica, soprattutto pescarese, come diciamo una volontà di far lievitare i costi della politica che sarebbe l'esatto contrario dei motivi per cui questa nuova città invece nasce. Ecco, ci spiega perché non è così. Intanto direttore, siccome ci siamo detti che non ci si deve nascondere ad un dito, io in dott'onestà ricordo di aver manifestato una contrarietà dall'inizio a cui è seguito uno scetticismo che comunque continua a rimanere perché io rimango ancora scettico davanti ai reali benefici che questo processo possa portare al territorio. Mi auguro che sia così, mi auguro che escono sui giornali offendendo molto spesso anche in maniera ingiustificata e ho timore invece che i territori di Spoltore e Montesilvano possano piuttosto avere un documento che beneficio. Ma questo rimane un mio pensiero, devo dire anche condiviso da una larga fetta della popolazione che quando mi incontra mi continua a dire, Sindaco, ma dove stiamo andando? Ma è sicuro che poi non ci saranno degli effetti negativi, è sicuro che poi diventando tutta Pescara noi non andremo a fare la parte delle periferie, cosa che oggi non è e che quindi ci sarà sempre uno sguardo rivolto solo alla Pescara che c'è oggi piuttosto che al nostro territorio. Queste sono risposte che solo il futuro potrà dare. Io mi auguro che non sia così qualora si portasse a compimento questa fusione così come sembra essere tracciata il percorso, mi auguro che, ripeto, chi amministrerà dal 2027 in poi possa avere uno sguardo invece per tutto il territorio. Per quel che riguarda la domanda, nello specifico, io ho rigettato al mittente tutte le accuse e l'ho fatto anche in maniera forte perché nell'ultima seduta quando abbiamo approvato lo statuto, io ho parlato e continuo a sostenerlo, ho parlato di disgusto nel sentire da parte di alcuni consiglieri di Pescara delle accuse nei nostri confronti, non parlo solo di Montesilvano ma anche di Spoltore, nel momento in cui ci hanno dato dei poltronari o degli amministratori con uno sguardo rivolto a degli interessi personali e alle poltrone. Probabilmente questi consiglieri non hanno fatto, hanno studiato poco matematica perché se si facesse in realtà un calcolo sulla base dello schema che era stato condiviso con Pescara peraltro, dei due municipi a Pescara, uno a Montesilvano e a Spoltore, a perdere le poltrone sarebbero Spoltore e Montesilvano e non Pescara che manterebbe i 32 consiglieri che tuttora ha e quindi, ma al di là di questo, noi quello che abbiamo sempre ribadito è che noi guardiamo il bene del territorio, qualsiasi richiesta facciamo e qualsiasi affermazione facciamo e quello che abbiamo chiesto è semplicemente un riconoscimento di quello che è stato ed è Montesilvano e Spoltore per il territorio, un riconoscimento che per noi si dovrebbe tramutare in che cosa? Nel mantenimento ovviamente dei due municipi ma anche con delle funzioni specifiche almeno all'inizio, poi vogliamo ragionare sul fatto che questi due assessori, perché poi si è parlato di due, da due a quattro, per me ne basterebbero assolutamente due, però darebbero intanto una collegialità e non un solo uomo al comando come sarebbe con il solo Presidente, ma ci sarebbe una certezza qui nel dare qualche funzione a Montesilvano e a Spoltore che io ritengo almeno all'inizio essere importante per le peculiarità che il territorio che le Spoltore di Montesilvano hanno. Solo questo è quello che abbiamo chiesto, non un accentramento ma un decentramento e quale migliore espressione se non un Presidente accompagnato da due assessori. Per quello che riguarda il nome e chiudo, anche qui il nome Pescara, il nome Pescara siamo affezionati tutti, io a Pescara ho amici, parenti, i miei genitori prima di arrivare a Montesilvano hanno vissuto la loro giovinezza e si sono incontrati a Pescara, io ci ho fatto la scuola, ho tanti amici, ripeto. Il problema è quanto noi vogliamo dare all'esterno l'idea di una nuova città e in questo il nome rappresenta qualcosa di importante perché se noi manteniamo il nome Pescara, benché sia un nome affascinante al quale siamo legati, all'esterno daremo soltanto la parvenza di un territorio allargato piuttosto che è una nuova città con tutto quello che si prospetta e che ospichiamo. Grazie De Martini, se noi ci dobbiamo fermare per la prima pausa ma poi riprenderemo con Chiara Trulli ovviamente su questo tema che è molto penso avvincente per i cittadini ma anche per i nostri telespettatori, tra poco. Siamo tornati in studio, stiamo parlando del comune di Nuova Pescara, abbiamo sentito le dichiarazioni sia del sindaco Carlo Masci di Pescara che di quello di Montesilvano Ottavio De Martini, sono curioso di conoscere anche il punto di vista di Chiara Trulli, sindaca di Spoltore, perché sul tema identitario e anche su quello dei costi e delle poltrone, Spoltore è stata chiamata anche pesantemente in causa in questa accesa fase formativa delle settimane scorse dell'Assemblea Unica e del Bozza di Statuto. Allora intanto, come diceva bene il collega Ottavio De Martini, noi rispediamo al mittente tutte le accuse di poltronificio che sono state elevate e sono ingiustamente motivate, quindi abbiamo parlato di un percorso a ostacoli, abbiamo parlato di un processo complesso, il primo in Italia diffusione di tre grandi comuni che necessita chiaramente anche di una fase di assestamento. Non stiamo fondendo tre piccole municipalità, ma stiamo fondendo tre realtà complesse, tre realtà ampie anche dal punto di vista geografico, con degli assetti organizzativi di una certa articolazione, parliamo di nel totale oltre 1300-1400 dipendenti minimo, poi consideriamo anche le società partecipate, tutte le società che operano a vario titolo con l'amministrazione nuova che sorgerà, quindi certo nessuno poteva immaginare che, e se qualcuno lo avesse fatto chiaramente sarebbe stato fuori pista, che costruire una realtà del genere avrebbe portato meno costi della politica, questo chiaramente può dirlo chi non conosce la pubblica amministrazione. Quindi lo slogan, già all'epoca populista, che era poi la leva sulla quale si poggiava per blandire il referendum, era già depistante. Detto ciò, noi non pensiamo che mantenere poltrone o assetti di politici sia assolutamente l'obiettivo che bisogna porsi, non è questo il problema. Noi diciamo che ciò che dobbiamo garantire è che all'esito della fusione non ci siano territori sottorappresentati e territori molto rappresentati, non ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B. Dobbiamo garantire una macchina istituzionale e amministrativa che consenta pari dignità a tutti i territori, che consenta rappresentanza a tutti i territori, perché io faccio sempre l'esempio di piccole vie o rue e ruelle del centro storico che non conoscerebbe nessuno e che può conoscere solo il rappresentante del territorio. Ma questo lo dico perché dobbiamo capire che ci sarà una fase di transizione di un processo così complesso. Non può esserci un coniglio dal cilindro che si caccia, cioè la nuova città che spunta all'improvviso, un fungo. Ci sarà una transizione che dovrà portare poi a un assetto maturo della nuova città. Ed è per questo che in questo momento si invoca la costituzione di quegli organismi come i municipi, come le giunte, che possano consentire di mantenere la radicalità, l'adesività con i territori. E questo è fondamentale. Sarà una fase di transizione. Io mi appello anche ai consiglieri di Pescara affinché capiscano ciò di cui stiamo parlando. Subito dopo potranno tornare a esprimersi i consiglieri della nuova città e magari si potrà ritornare anche a ridare la parola ai cittadini per modificare il nome e perché no tornare a Pescara. Il problema è che stiamo ragionando invece sulla costruzione. siamo ancora in itinere, in un percorso che ci accingiamo ancora a costruire. È tutta da fare la nuova Pescara. Immaginate solo quando noi nei nostri contesti diciamo andiamo a fare la riunione se non dicessimo per nuova Pescara non si capirebbe che riunione andiamo a fare. Bene, e anche la città che nasce deve avere carattere di novità perché la novità deve essere anche insite in un processo del genere. Io mi sono scontrata tante volte con chi diceva che addirittura non dovessero esserci municipi, che la città doveva essere subito Pescara nel senso che di eliminare qualsiasi ipotesi di nome alternativo e perché la città nasce deve essere efficiente, deve essere snella. Questo lo vogliamo anche noi. Io non vorrei mai una città in cui il sindaco, la giunta non abbia potere decisionale veloce. La decisione oggi, lo vediamo da amministratori, deve essere fluida. Io non vorrei mai che la mia città, la nuova Pescara fosse una città imbrigliata perché le competenze si sovrappongono tra municipi e la grande città. No, non deve essere così. La nuova città e il sindaco, l'amministrazione devono poter operare con un potere decisionale che sia, come dicevo, fluido. Ma questo non deve però far perdere il potere della rappresentanza dei singoli territori. o dei municipi. Allora, il sindaco Masci ovviamente le risponderà su alcune tematiche che sono state sollevate. Sono tematiche che i cittadini discutono tra di loro nei bar di Pescara, di Spoltor e di Montesilvano. Non che anche ci scrivono, insomma vogliono avere informazioni. Però io vorrei adesso che in questa seconda parte della trasmissione, voi come siete abituati a fare, perché i sindaci hanno un rapporto per fortuna diretto con i cittadini, spiegaste ai cittadini che cosa in realtà accadrà? Intanto di qui al 2027, cioè come si trasformerà il vostro territorio e soprattutto come funzionerà la nuova città, se la nuova città determina più problemi o più opportunità. Per esempio, iniziamo da un punto che sembrerebbe banale ma che invece sarà uno di quelli su cui avrete più problemi, suppongo. La toponomastica. Io devo andare o devo spedire un pacco in via Roma, nuova Pescara. Dove nascerà via Roma, nuova Pescara? Allora intanto io voglio esprimere la solidarietà in favore dei miei due colleghi che sono stati in effetti attaccati rispetto a questa vicenda dei municipi e degli assessori sul discorso delle poltrone, perché mai e poi loro hanno pensato che il discorso dei municipi e degli assessori dovesse essere collegato alla necessità di poltrone, perché il discorso che noi abbiamo sempre fatto è stato legato alla identità dei territori. Poi ciascuno può avere le proprie idee rispetto a come si esplica questa identità, ma una cosa è certa, nessuno dei miei colleghi ha mai pensato che il discorso potesse essere legato alle poltrone, nei colleghi e nei consiglieri, quindi chi lo ha detto veramente ha dimostrato un'attività becera rispetto invece a un processo, è un processo che fa fare il salto di qualità a tutti quanti, perché questo è il dato ed è un processo difficile. Chi dice che il processo è facile non sa che cos'è l'amministrazione, non si mette mai in gioco rispetto all'amministrazione e non si rende conto di quali sono i problemi della fusione di tre città, perché il primo problema che sembra banale è proprio quello della toponomastica, ma che credo si possa risolvere velocemente indicando a fianco del nome della via anche il nome della attuale città, perché non è pensabile, almeno per quello che mi riguarda, ma poi se qualcuno fa una proposta diversa di cambiare i nomi di tutte le vie delle tre città sarebbe veramente un'operazione molto complessa. La cosa più semplice sarebbe quella di aggiungere alla via il nome della città che si fonde, in modo da risolvere immediatamente questo problema. Ma il vero tema qual è? La fusione di queste tre città comporta un allargamento del territorio amplissimo, perché la nuova città sarebbe una città di 97 km2, una città che comincia a pesare in termini di territorio. Oggi Pescara, che è di circa 34 km2, ha una densità abitativa di 3.500 abitanti per km2, la quattordicesima città d'Italia, Spoltore ha 500 abitanti per km2 e Montesilvano a 2.200 circa. Insieme avrebbero meno densità abitativa, perché staremmo intorno ai 1.700, invece un territorio molto ampio, dove poter sviluppare tante cose che oggi non si riescono a sviluppare a Pescara, perché il territorio è molto complesso, e che invece non si possono sviluppare negli altri territori perché non ci sono le opportunità in questo senso. Io già noto per esempio una cosa che mi fa molto piacere, vedere la Stella Maris che rinasce con l'università, che è l'università di Pescara Chieti e nasce a Montesilvano, non può che farmi piacere da sindaco di Pescara, che però è anche sindaco insieme agli altri di un territorio molto più vasto, che ragiona già in termini di insieme, perché noi non dobbiamo dimenticarci che questa fusione nasce da un referendum in cui i cittadini dei tre comuni hanno votato tutti per la nuova Pescara a maggioranza, quindi questo è il dato che noi dobbiamo considerare. Io dico sempre che mi trovo ad amministrare una città che ha più o meno 120 mila abitanti, ma che ogni giorno dà servizi a 300 mila persone, quindi ho una struttura amministrativa per 120 mila abitanti, ma do servizi a 300 mila persone perché consideriamo l'università, consideriamo tutte le attività. Ecco, un altro dato importante, le tre città insieme avranno 11.150 imprese, un numero importantissimo che ci permetterà di misurarci con le realtà imprenditoriali di un livello che oggi è molto più ampio del nostro, quindi queste cose noi dobbiamo prendere in considerazione, ma io immagino la zona alberghiera di Montesilvano, oggi Pescara soffre perché organizza tante iniziative ma non ha alberghi e oggi Pescara come risponde alla necessità di ricettività con i BNB, perché a Pescara sono nati negli ultimi anni 3.500 posti letto in BNB, perché qui a Pescara alberghi non ci sono, sulla riviera dove si dovrebbero fare ci sono le case dei pescaresi e quindi ovviamente non c'è possibilità di ampliare questo dato. Montesilvano invece è un forziere per il discorso turistico e quindi io immagino che la nuova città svilupperà su Montesilvano delle attività turistiche importanti, ma con il numero degli abitanti che avrà la nuova città e con il territorio che avrà la nuova città, quindi penso che Montesilvano guadagnerà molto da questo punto di vista e così come spoltore con il suo territorio molto vasto, molto ampio, che sarà a disposizione di scelte che la nuova città dovrà fare importanti per sviluppare tutta l'area. De Martinis, con la franchezza con la quale hai risposto anche alle mie precedenti domande gliele faccio un'altra. Lei, qual è la cosa che la preoccupa, la spaventa di più di qui al 2027, di tutte anche queste cose concrete di cui stiamo parlando, i nomi delle strade, che ne so, le scuole, l'organizzazione del traffico? Io di fatto ho già risposto alla domanda quando ho detto che il timore dei cittadini è un po' il mio, il pescarese, per sua natura, lo stiamo vivendo, lo stiamo constatando in questa fase, di questo percorso che dovrebbe portare la nuova pescara, ha una visione alquanto pescarocentrica delle cose. Il timore è che questa visione pescarocentrica possa poi in qualche modo sul territorio non avere quelle risposte che invece il territorio nel momento in cui verrebbe fuso si aspetterebbe avere. Io penso che è vero che poi ci sarà una rappresentatività da parte di Montesilvano e di Spoltore, ma se i numeri, se la matematica, come si dice, non è un'opinione, c'è ovviamente più possibilità che siano i pescaresi, soprattutto nella prima fase, ad entrare in Consiglio Comunale, ad avere quella visione di cui sto parlando. Un pescarese avrebbe sempre uno sguardo rivolto più a Piazza Salotto che a Piazza Diaz, che nemmeno sa essere la piazza del comune dove sorge il comune di Montesilvano. Ma questo è un timore più largo, più esteso. Nello specifico mi fa piacere che mi sia stato fornito un assist nel momento in cui si è chiesto della portofonomastica, direttore, perché quando io mi sono permesso di fare una dichiarazione parlando di difficoltà che potevano sorgere, per esempio nel momento in cui c'erano delle vie e si dovevano rivedere un attimo la portofonomastica, anche lì ho fese sui giornali. Potete, senza timore di smentita, io dico cose perché sono pubbliche da parte dei comitati che mi ridevano in faccia perché dicevano ma di che cosa sta parlando. In realtà invece seduti attorno a un tavolo, come diceva lo stesso Carlo Masci, noi ci siamo resi conto di quanta difficoltà ci sarebbe a rivedere la topofonomastica, secondo me in modo sano, perché a mio avviso è vero quello che dice Carlo, sarebbe difficilissimo, ma sarebbe anche qualcosa di importante e di bello per una nuova città che sta nascendo. perché io parlo poco politichese con i miei cittadini, quindi ai miei cittadini vi parlo in maniera diretta. Sentire via Roma di municipio 1 o via Roma di municipio 2, a mio avviso è veramente di una tristezza e di una bruttezza infinita. E questo è quello che potrebbe succedere, perché quando ci siamo seduti, di fronte a una difficoltà oggettiva legata alla topofonomastica, alla presenza di vie che stanno con lo stesso nome su Montesilvano, Spoltore e Pescara, si è ragionato per il futuro via Roma, per fare un esempio, di Pescara, via Roma di municipio 1, via Roma di municipio 2 o via Roma di Spoltore e via Roma di Montesilvano. Questa è una difficoltà. Altre, noi abbiamo messo insieme dei servizi che sono quelli che sono stati più semplici mettere insieme in poco tempo, ma ce ne sono altri che sono davvero complessi. Pianificazione del territorio, sociale, dove abbiamo ogni comune ha una tipologia diversa di intervento o di gestione. Noi abbiamo un'azienda speciale che mi auguro possa avere anche nella nuova Pescara un ruolo fondamentale. Pescara ha una gestione diversa per il termine di cooperative e come dal resto ha Spoltore. Per quello che riguarda invece la mutazione, Spoltore ha Spoltore Servizi, che anche questo è uno strumento che risulta essere molto utile e molto efficiente. Noi con Montesilvano e Pescara abbiamo una tipologia di gestione diversa, con contratti diversi e quindi c'è tanto lavoro da fare e questo, se il percorso non viene fatto in maniera sana, armoniosa, potrebbe portare difficoltà. Però voi potreste dare l'esempio, Sindaca Trulli, cioè nel senso cominciate adesso, ecco questo magari lo chiedono anche i cittadini, per esempio nel 2027 bisognerà fare un calendario delle manifestazioni estive della nuova città. Ecco, se si cominciasse a evitare la concorrenza parlandosi, adesso nei mesi invernali, degli eventi principali, in modo che non vi sia, si dia anche un'idea all'esterno che la città è coordinata per le cose che determinano l'accoglienza. Ecco, a questo state pensando? Pensate che sia un'esigenza su cui dare anche una caratterizzazione della nascita di un soggetto unico, nuovo e comune? Beh, certamente il dialogo e oggi condivisione su tante scelte dovremo poi capire come implementarlo sempre di più. Però mi voglio riallacciare a quello che dicevano i colleghi in merito alla toponomastica, perché, come diceva bene anche Ottavio e anticipato da Carlo, oggi la toponomastica è la conferma empirica che non si può fare a meno del municipio, perché appunto tu oggi con il municipio puoi definire la via Roma di Spoltore distinguendola dalla via Roma di Pescara. Quindi a chi ci diceva ma a che servono i municipi sono solo dei poltronifici? Noi dobbiamo rispondere dicendo che senza municipio in questo momento ci sarebbe il terremoto. Ci sarà poi, anche per i primi 5-10 anni dall'istituzione della nuova città. Ma il municipio consente anche l'esercizio della prossimità al cittadino rispetto ai servizi che deve ricevere necessariamente, perché noi non possiamo pensare mica di creare un ibrido, cioè una città satellite nella quale si perda completamente il contatto tra il cittadino e la macchina amministrativa. Quella prossimità ci deve stare sempre, cioè l'esercizio dei servizi più vicini e quindi gli sportelli per l'erogazione dei servizi, devono essere vicini alla gente. Noi se pensiamo, alcuni obiettano la digitalizzazione, la gente non vuole essere relegata a un ruolo di secondo piano o non può pensare che dalla grande Pescara avrà un minus, cioè verrà a perdere tanti di quei servizi e anche di quella vicinanza che oggi è fondamentale. Voi pensate che io ricevo a volte delle persone in comune che vogliono solo essere ascoltate, cioè pensate quanto è importante il contatto con la gente e il comune in questo è l'ente più vicino, lo dicevamo prima, deve continuare ad essere così. L'amministrazione comunale deve essere vicina alla gente. Quello che mi preme a me è che la città che nascerà dovrà continuare ad avere questa prossimità, cioè è fondamentale, perché se non c'è a questo livello ci saranno quelli sovracomunali? Dobbiamo andare a Roma? Palazzo Chigi? Dovremo andare in regione? No, il cittadino viene in comune per tantissime problematiche anche che non afferiscono alle competenze comunali e vuole essere rappresentato su tutti i tavoli e devi starci. Per cui la nuova città che io immagino deve non perdere la capacità di fare questa medesima cosa, dobbiamo continuare a essere vicini alla gente e il municipio è un modo per esserlo. Quindi su questo ci tenevo molto a ribadirlo perché proprio quel gioco delle parti tra chi vuole le poltrone, chi vuole l'enfasi sulla rappresentanza politica e chi non la voleva si basava sul contenimento dei costi della politica. Siete fuori pista, siete fuori strada, non è questo quello che stiamo dicendo noi. Noi vogliamo una città che sappia erogare servizi di qualità e per farlo siamo convinti che il processo per arrivarci non sia sicuramente immediato, ma è tutto da costruire, anche per tornare alla domanda che mi faceva lei inizialmente, sarà tutto tutto da costruire sedendosi ai tavoli, dialogando anche con molta serenità, con molto equilibrio perché lei diceva il comune più piccolo, spoltore è il comune più piccolo. Ora noi non abbiamo questo complesso di inferiorità, a me non è mai interessato questo, quello che mi interessa è fare le cose per bene, quello che mi interessa è tutelare la nostra città e lavorare insieme perché il processo di fusione potrebbe portare benefici, molti benefici, se la governance che sorgerà dopo questa fusione sarà in grado di svolgere l'alto compito che dovrà assolvere. Ma come diceva Ottavio, questo non è scontato e invece una fusione a freddo, una fusione fatta senza delle basi strutturate potrebbe portare a 10 anni di impasse come minimo per i cittadini, di perdita di quei benefici, di quei servizi che noi attualmente diamo. Perché noi non ci dimentichiamo che stiamo fondendo tre realtà amministrative che funzionano per andare verso la costituzione di un'entità nuova, è proprio una nuova azione. Quindi i cittadini oggi sanno che hanno delle municipalità che rispondono ai bisogni che il cittadino esprime. Non possiamo pensare di realizzare una scatola vuota che poi faccia perdere di competitività, di efficienza, di economicità, insomma che faccia sentire lontano il cittadino e non gli sappia dare quella velocità di risposte che oggi imprese, cittadini hanno necessità di avere. Grazie Chiara Trulli, noi ci fermiamo per l'ultima pausa, poi chiuderemo penso gli ultimi 10 minuti con una rapida battuta da parte di tutti e tre. Linea alla regia. Siamo tornati negli studi di Rete 8 dove, per chi si fosse messo in visione in ascolto soltanto ora, sono presenti i tre sindaci di Pescara, Montesilvano e Spoltore per parlarci della fusione. Abbiamo parlato insomma di opportunità, anche di problemi che sono legati a questo percorso che culminerà inesorabilmente il 2027 nella nascita del nuovo comune, ma tra i presupposti, lo si diceva all'inizio, credo forse lo dicesse proprio Carlo Masci al quale pongo la questione, c'è anche quella delle risorse, cioè servono finanziamenti per far nascere una nuova realtà, ma soprattutto serve che insieme si ragioni sin da ora per lavorare a sfruttare tutte le opportunità che ci sono. È passato il treno del PNRR, probabilmente ci saranno altri finanziamenti legati alle aree urbane. Ecco, su questo di qui al 2027 è impossibile lavorare più settorialmente Masci, serve una visione d'insieme e quella su cui anche gli amministratori attuali, non quelli della nuova Pescara, sono chiamati ad impegnarsi. Intanto diciamo che questa vulgata per cui i tre comuni non si parlano e non lavorano insieme non è vera, perché per tante cose i tre comuni lavorano insieme, per il sociale mi viene in mente i progetti che sono stati presentati con le varie ECAD e che hanno ottenuto finanziamenti importanti e con i quali oggi diamo servizi ai nostri territori con le risorse che abbiamo. Quindi questa favola per cui il PNRR avrebbe dovuto dare soldi a progetti unitari è un'altra favola perché il PNRR ha assegnato fondi per progetti specifici e quindi non credo sarebbe stato possibile utilizzare lo strumento di una fusione che doveva venire fra tre anni per poter utilizzare i fondi del PNRR oggi. Perché poi qui parliamo tutti quanti con soluzioni che praticamente non esistono perché poi noi sappiamo quando abbiamo gli atti davanti come possiamo e dobbiamo portarli avanti. Siamo in una fase di cambiamento, di grande cambiamento, come dice Papa Francesco, noi non ci troviamo in un'epoca di cambiamento, noi ci troviamo al cambiamento di un'epoca e all'interno di questo cambiamento di un'epoca noi ci abbiamo inserito il cambiamento di tre città perché pensate un po' dove stiamo andando e come ci stiamo andando perché poi al di là dei problemi che ognuno di noi solleva perché i problemi ci sono, sappiamo che andiamo verso un unico grande obiettivo e i vantaggi io credo saranno superiori ai problemi che oggi noi incontriamo e quindi il lavoro che stiamo facendo è un lavoro che comunque ci ritroveremo. Per esempio la prossima settimana i dirigenti del Comune di Pescara andranno a Roma, ma ovviamente dopo aver concordato con l'ufficio di fusione che ciò avvenisse, per parlare con il direttore generale del Ministero che si occupa delle risorse che dovrebbero arrivare per la nuova Pescara, per la fusione, per capire come queste risorse possono essere utilizzate perché ci sono 5 milioni previsti da una legge che devono essere assegnati per il percorso che stiamo facendo di fusione. Questi 5 milioni sono previsti per l'anno 2023, noi dobbiamo invece svilupparli adesso per i tre anni che ci troviamo davanti e quindi andranno a Roma proprio per chiarire questa situazione, per poter utilizzare questi 5 milioni di euro perché poi dobbiamo anche dirlo, fino a oggi i soldi ce li abbiamo messi soltanto noi comuni, non c'è stato nessun intervento esterno ma abbiamo utilizzato, ma giustamente dico anche i dirigenti che abbiamo, le risorse che abbiamo, le possibilità che abbiamo. Adesso siccome questa è una fusione che riguarda Spoltore, Montesilvano e Pescara, ma è anche come dicevamo la più grande fusione d'Europa ed è anche un segnale per tutti quelli che vogliono accorpare delle città. Se questa fusione riesce sarà un esempio per tanti, per altra realtà, a livello nazionale e a livello europeo. Se non riesce sarà un problema per tutti. Ma rischia di non riuscire perché poi se se la devono pagare i contribuenti dei tre comuni il rischio di immagine è quello. Per questo che noi diciamo con forza le risorse che sono state stabilite a Roma adesso devono arrivare nei comuni, soprattutto per il personale, perché noi stiamo facendo cose assolutamente nuove con il personale che avevamo in carico, con un personale che si è trovato a dover affrontare il Covid, la guerra, la crisi sociale, economica, finanziaria, umanitaria, il PNRR, sempre con lo stesso personale che prima faceva un decimo rispetto a quello che fa oggi e a cui si è aggiunta anche la problematica legata alla fusione. Allora noi abbiamo bisogno di risorse per assumere, personale, per fare le cose che si devono fare per arrivare alla fusione. Queste risorse ci sono perché ci sono 5 milioni di euro per il percorso di fusione, poi ce ne saranno 10 milioni all'anno per 10 anni con la nuova città. Ma quelle risorse che sembrano tante, sono solo risorse che servono per far funzionare una nuova macchina amministrativa che deve funzionare al meglio per fare in modo che tutti prendano esempio da questa grande fusione che i nostri territori stanno facendo. De Martini, se c'è il rischio che alla fine il conto della fusione le paghino i cittadini, ho visto che annuiva quando io facevo questo rilievo, al momento, allo stato attuale? Ad oggi, come dicevo prima nell'intervento, siamo solo e scusamente noi ad aver utilizzato dei fondi per portare avanti questa fusione. Così come è stato detto, il personale è stato sovraccaricato, non soltanto relativamente a quelle che sono le esigenze quotidiane, ma anche per quello che riguarda il percorso che dovrà sfociare il 227 in questa nuova realtà. e io non voglio fare il bastian contrario, ma io sono anche scettico, molto scettico relativamente a tutti questi milioni di euro di cui si parla da tempo, anche di questi non c'è traccia, benché è stata votata una legge, si dice, a livello nazionale, ma io con le difficoltà che il Paese Italia sta vivendo, con le finanziarie che ogni qualvolta si portano avanti delle difficoltà. Io ho seri dubbi relativamente al fatto che arrivino tutti questi soldi perché Montesilvano, Spoltore e Pescara devono costruire una nuova città. Io penso che tutto quello che sarà il futuro sarà nelle nostre mani, lo continuo a dire da anni e qualora fosse così dovremmo essere veramente bravi come lo siamo stati ad oggi perché me lo voglio dire bravo e così come lo voglio dire a Carlo, a Chiara e a tutti i consiglieri di tutti i consigli comunali sia di Pescara, di Montesilvano e Spoltore e tutte le macchine, insomma le strutture tecniche dei comuni. Perché poi al di là delle posizioni, al di là del fatto che si hanno opinioni diverse, se siamo arrivati dove siamo arrivati è perché abbiamo fatto degli sforzi veramente importanti noi e perdendo tanto tempo, impiegando tanto tempo perché puoi perdere è una parola che non mi piace, impiegando tanto tempo che avremmo peraltro impiegato in altrettante azioni importanti per il territorio. Voglio tornare velocemente alla domanda che facevo relativamente agli eventi o alcune cose che non sono... Anche le isole pedonali almeno coordinarle d'estate, insomma i parcheggi sulla strada parco, insomma qualche piccolo segnale. Sì, in realtà il direttore come diceva del resto anche il sindaco Masci, noi sono anni che dialoghiamo, lo abbiamo fatto per quello che riguarda i fondi che insieme abbiamo intercettato, parlava del sociale ma anche per altri progetti abbiamo ragionato insieme e continueremo a farlo. E non è vero come si dice che la panacea di tutti i mari sia questa fusione che renderebbe saggi e amici i sindaci che invece oggi non lo sono. Noi siamo tre amministratori a cui io sommerei anche tutti gli altri amministratori del territorio, io parlo anche da Presidente della provincia in questo caso, c'è molta sinergia invece tra i territori che dicevo all'inizio è molto importante e insieme si stanno portando avanti tante iniziative anche di insieme. Per quello che riguarda gli eventi a Pescara c'è il concerto di Capodanno che si tiene la notte del 31. È evidente che Montesilvano nel momento in cui deve fare delle scelte già ha fatto una scelta diversa, sta facendo scelte diverse e ha organizzato da anni un concerto a Natale in modo tale da diversificare, così come in estate e benché ci siano stati... Perché i soldi per i concerti ce ne sono sempre meno, purtroppo. Certo, peraltro a Montesilvano abbiamo fatto questa scelta negli anni di non avere l'unico comune in Italia forse a tassa di soggiorno, benché si abbiano presenze turistiche importanti e quindi tutto è fatto con i soldi del bilancio. Dicevo, anche per quello che riguarda l'isola e le pedonali, la viabilità, si sta ragionando. È evidente poi che se ci sono lavori, se ci sono situazioni che per forza di cose vanno in qualche modo a influire, lì possiamo parlare, dialoghiamo. Per esempio la strada parco si faceva l'esempio dei parcheggi. C'è stata differenza perché sulla strada parco a Pescara si stavano portando avanti dei lavori importanti per il transito dei mezzi elettrici in futuro, Montesilvano no, ecco perché c'è stata una diversificazione. Ma dove abbiamo potuto lavorare insieme lo abbiamo fatto. Anche perché, su questo chiudo veramente la trasmissione con Chiara Trulli, cioè la nuova Pescara, come si chiamerà, nascerà non nel momento in cui ci sarà l'approvazione formale dello statuto, l'insediamento del Consiglio Comunale o il primo sindaco. Voi probabilmente se veniste rieletti, loro due si ricandidano, Chiara Trulli si ricandiderà nel frattempo, sareste comunque, passereste alla storia come gli ultimi sindaci dei vecchi comuni, ci sarà qualcuno che passerà alla storia come il primo sindaco della nuova Pescara, chissà, magari uno di voi. Ma al di là di questo inciso, però il Comune nella sostanza non nascerà quando ci sarà questo passaggio formale. Nuova Pescara, quello che sarà, nascerà quando il cittadino percepirà che non sta attraversando più un confine con tutte quelle problematiche di qui sopra. Di qui al 2027 ci sarà ancora questo confine? Beh, diciamo che per quanto riguarda i confini, effettivamente la conurbazione oggi è tale, per cui è anche difficile delimitarli. Lo dico per Spoltore, ma lo dico anche per Montesilvano, oggi ci sono diciamo quelle vicinanze tali per cui è chiaro che il discorso del confine è un pochino labile, però è anche vero che ci sono delle identità che vanno preservate, ma infatti anche la stessa del Rio lo dice, la legge di fusione parte sempre dal presupposto che vadano preservati i territori di origine anche nella loro identità. E' molto importante questo, cioè la nuova città non dovrà respingere, non dovrà azzerare le differenze, ma esaltarle, proprio perché ogni territorio ha la propria vocazione e quindi noi dobbiamo trarre il meglio da ogni territorio. Noi diciamo che vogliamo diventare il salotto culturale della nuova Pescara, Spoltore, il centro storico è meraviglioso, stiamo anche lavorando in questi anni e ci lavoreremo ancora, proprio perché si affermi questo concetto dal punto di vista anche urbanistico, anche proprio dell'assetto e dell'arredo del nostro centro storico. Quindi è chiaro che queste differenze che comunque ci sono non devono essere appiattite, ma devono essere esaltate e perché poi dalla fusione si abbiano i benefici che tutti ci attendiamo. Quindi anche con, io questo lo dico perché affronto sempre le cose con spirito positivo, io dico, noi è un po' come la globalizzazione, oggi gli esperti di globalizzazione sanno che l'ottimo si raggiunge con il glocal, cioè una globalizzazione che non mortifichi il locale ma anzi lo esprima e così dovrà essere per la nuova città. Quindi le vocazioni dei diversi territori dovranno essere preservate, rafforzate, anzi valorizzate per creare un unicum in cui si possa avere anche quel collagene unitario che è vincente. Ma a tal proposito io dico che per avere veramente quel risultato finale importante e cioè perché ci si senta veramente un'unica città sarà molto importante rivedere anche la viabilità, i trasporti collettivi e per esempio, ed è un appello che faccio anche alla regione perché poi io non perdo tavolo dove non dico quello che secondo me sono delle esigenze vitali, per esempio creare un raccordo nella mobilità sostenibile, le piste ciclabili che facciano veramente la circolarità, la creino, trasportore, Pescara e Montesilvano. Sono state finanziate solo le ciclabili sulla costa, Montesilvano, Pescara hanno avuto dei finanziamenti come tutta la costa dei Trabocchi, non si è pensato ai nodi del pettine, cioè ai denti. Noi dobbiamo avere la possibilità e io l'ho chiesto su tanti tavoli di avere il finanziamento in base al nostro biciplan, quello che abbiamo presentato, per esempio, delle connessioni ciclopedonali che sono indispensabili perché il cittadino del centro storico possa arrivare a Piazza Salotto in totale sicurezza passando attraverso un sistema di mobilità veloce, sicura, ma soprattutto ecologica. Ecco, questo per esempio è uno di quegli assets fondamentali che noi reclamiamo perché si faccia la nuova città e ci si senta tutti parte organica della nuova città. Bene, ci sarebbero tanti altri argomenti, ma io penso che di qui al 2027 ne parleremo magari anche in termini di problemi risolti, chissà se sarà così, se si potrà vincere qualche scetticismo che abbiamo ascoltato, invece insieme a tanto entusiasmo perché voi immagino che assumiate anche la responsabilità, oltre che il peso di questa fase così importante nella vita delle vostre città. Grazie Carlo Masci, Ottavio De Martini, Secchiara Trulli, grazie anche ai nostri telespettatori, arrivederci alla settimana prossima con i fatti e le opinioni. Grazie, buonasera. Grazie. Grazie.